Non sembra esserci una soluzione al Rebus Leoni alla situazione in stallo. Da una parte le pretese dei dipendenti costretti a fare i conti con la crisi nazionale con due mensilità in meno in tasca, dall'altra le pretese del comune di Reggio Calabria che vuole assicurati i servizi di raccolta rifiuti per la città ma non ha la liquidità per far fronte alle spese. In questo tiro alla fune c'è anche la parte privata della società mista che non ha intenzione di sborsare ancora una lira per sopperire alle esigenze materiali della Leonia e starebbe riflettendo seriamente su quanto valga la pena investire ancora in questa realtà perennemente in deficit. Quasi a niente è servita la riunione generale indetta d'urgenza dall'amministratore delegato Mannucchi sceso in fretta e furia da Livorno, riunione che questa notte ha tenuto impegnati fino alle due tutti i dipendenti di ogni settore, anche i dirigenti della società mista, anzi quasi tutti perché all'appello mancava qualcuno, è giusto sottolinearlo. Ma gli oltre 200 dipendenti presenti si sono fatti sentire con la società privata che oggi sarà tra l'altro ricevuta dal prefetto Piscitelli per cercare una soluzione. Il colloquio con la parte comunale più o meno c'è stato giorni addietro ma le casse di Palazzo San Giorgio sembrano non sentirci da quell'orecchio e nemmeno i dipendenti d'altro canto in sciopero ormai da oltre 48 ore della serie dare soldi, vedere cammello. Si è arrivati al muro contro muro, era inevitabile se analizziamo la situazione che si protrae da più di un anno ma la paura dei dipendenti soprattutto è che si sia arrivati realmente alla fine. Già ieri si era temuto il peggio per le sorti della Leonia alla sola notizia di una riunione generale indetta dalla parte privata della società mista che rappresenta il 49 per cento ma la via d'uscita del socio privato sarà comunque difficile e non può concretizzarsi nello scioglimento senza consenso del comune, socio di maggioranza. Insomma il gioco al rimpiattino continua tra voci di ingiunzioni di pagamento, scioglimenti e ricapitalizzazioni. La verità non la sa nessuno al momento, si proverà a capirla oggi pomeriggio quando parte privata della Leonia e prefetto discuteranno. I dipendenti sono in trepidante attesa, lo sciopero continua.